Buongiorno a tutti da Filippo Giannini di Trading Facile, ben ritrovati al nostro appuntamento con la videoanalisi settimanale sui principali mercati e le strategie dei nostri trading system. Oggi martedì 10 maggio 2022, focus di oggi sul Fuzzimib. Prima di passare ai grafici diamo un rapido sguardo al nostro sito www.tradingfacile.eu dove trovate tutte le nostre strategie automatiche. Vi segnalo quelli che sono i prossimi appuntamenti della settimana, ben due webinar nel corso del mese di maggio li trovate qui sotto agli eventi della settimana, trovate i link per iscrivervi. Primo appuntamento 12 maggio alle ore 18 per parlare di concetti chiave inerenti alla volatilità e come questi influiscono in ottica operativa. Secondo appuntamento poi il 26 maggio sempre alle ore 18 per parlare invece di tecniche operative con il fattore tempo. Quindi mi raccomando, due appuntamenti imperdibili gratuiti, trovate i link per iscrivervi sul nostro sito. Bene, come detto, tema di oggi sul Fuzzimib. Cerchiamo un attimino di fare il punto della situazione sul benchmark italiano. Benchmark che è stato oggetto di forti vendite sul finire di settimana scorsa e anche in questo inizio di settimana e c'è da dire che al momento non registriamo purtroppo segnali di allentamento della morsa da parte dei venditori. Perché? Perché anche il rimbalzo che stiamo vedendo nella giornata odierna per ora non rappresenta altro che un rimbalzo tecnico dopo comunque le forti vendite. Perché dico questo? Perché qui in un quadro insomma un pochino più allargato c'è da registrare l'ennesimo tentativo fallito da parte del Fuzzimib di formare una base d'accumulo. Ne avevo parlato già settimana scorsa sul mio blog osservando appunto come il mercato stesso e cercando di completare un modello a doppio minimo con base sui 23.000 punti e che però insomma sarebbe stato importante che il mercato riuscisse poi a completare questa figura per alimentare un più ampio recupero. E di contro avevo sottolineato come invece una nuova caduta sotto quota 23.000 punti avrebbe innescato ulteriori vendite fino a quota 22.500 punti livello che è stato raggiunto in maniera puntuale nella giornata di ieri. Quindi cosa attendersi nelle prossime sessioni? Beh sicuramente per attendere un recupero più ampio dovremmo osservare un recupero dei livelli chiave quindi innanzitutto il mercato che vada a recuperare quota 23.000 punti e che comunque riesca nel contempo a completare una qualche configurazione un qualche pattern di tipo grafico che possa in un qualche modo supportare una ripresa più ampia cosa che per il momento non osserviamo anzi secondo me nel contesto attuale e tra poco lo vedremo con l'operatività dei nostri trading system c'è un primo livello interessante dove andare a riposare a riposizionarsi short e quindi andare di fatto a vendere le salite che è quota 22.920 punti perché proprio 22.920 punti? Ve lo faccio vedere subito perché allora qui abbiamo diverse operazioni aperte ieri dai nostri algoritmi e osservate appunto come in particolare l'area dei 22.920 punti è un'area che ieri ha innescato entrate short su diversi algoritmi vedete 22.925, 22.875 qui avevamo 22.915 qui ancora troviamo 22.925, 22.915 quindi quando abbiamo tanti algoritmi che entrano a mercato sulla rottura del medesimo livello questo sicuramente a livello statistico rappresenta appunto una buona base per considerare questa quest'area come chiedo scusa come appunto importante ecco qui ve lo faccio vedere su un time frame a 30 minuti e quindi ecco qui nel caso il mercato dovesse andare a ritestare appunto questo livello a mio avviso ci sono tutte le condizioni per andare a riposizionarsi short con un obiettivo che in prima battuta sicuramente rappresentato dal test dei minimi di ieri quindi 22.500 punti lo stop secondo me dovrebbe essere uno stop molto di ampiezza piuttosto contenuta e ad esempio quota 23.200 punti ovvero sui massimi fatti registrati dal mercato in apertura potrebbe essere appunto un ottimo livello per andare a posizionare lo stop qui parliamo chiaramente di un'operatività di tipo intraday o comunque di breve respiro quindi come detto nel contesto attuale mi raccomando massima cautela perché non ci sono né a livello tecnico né a livello macro degli elementi che in questo momento supportano una ripresa delle quotazioni quindi il rischio di assistere a nuovi scivoloni è comunque elevato qui abbiamo sotto quota 22.500 punti un altro livello importante che segnalo che è quota 22.200 punti livello di supporto dove mi aspetto che il mercato possa andare comunque a reagire è chiaro che se dovessimo osservare la rottura di quota 22.200 punti a quel punto si apre la strada al test dei minimi annuali a quota 21.000 punti 21.000 punti che è assolutamente un livello da tenere per quanto riguarda il Fuzzimib sappiamo l'abbiamo visto nel corso del 2020 e il corso del 2021 quanto sia stato importante qui nel corso del 2020 vedete come il recupero con questo modello di accumulazione molto ampio anche qui modello a doppio minimo il breakout nel novembre 2020 di quota 21.000 punti ha di fatto innescato il forte uptrend al quale abbiamo assistito fine 2020 e poi tutto il 2021 e quindi questo sicuramente è un livello al di sotto del quale diciamo non dovremmo scendere per scongiurare poi il pericolo appunto di una correzione più ampia in ottica comunque sia di ripresa del mercato come detto quota 23.000 punti ma poi comunque sia non dobbiamo dimenticare che sarà molto difficile assistere ad una importante accelerazione al rialzo fino a che il mercato non recupererà quota 24.600 punti sicuramente fino a quota 23.750 punti secondo me ci sarà ampio spazio per sfruttare appunto le salite come occasione appunto per riposizionarsi short all'interno di questo mercato anche per oggi è tutto io vi ricordo che il nostro sito è www.tradingfacile.eu per qualsiasi informazione ci potete scrivere a infochiocciola tradingfacile.net hashtag tradingfacile per seguirci sui principali canali social canali youtube facebook e telegram anche per oggi è tutto un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading a tutti grazie a tutti